Lunedì, al nord il tempo è comandato dall'anticiclone Narciso, in questa giornata il cielo si presenterà molto più nuvoloso al nord-ovest, nebbie sul Triveneto. Temperature in aumento Martedì, pressione in calo e tempo in peggioramento a partire dal nord-ovest dove arriveranno piogge e locali temporali con grandine. Tempo ancora asciutto sul resto delle regioni Al centro regna l'anticiclone africano Narciso e così anche questa giornata trascorrerà sotto l'egida del sole, infatti il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Clima caldo Martedì, alta pressione in declino. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e con locali piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale. Venti da sud Al sud, l'anticiclone Narciso continua a proteggere le nostre regioni quindi il bel tempo sarà prevalente e le temperature sono destinate ad aumentare ancora durante il giorno Martedì, c'è l'anticiclone Narciso a proteggere le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un cielo in prevalenza sereno. Soltanto in Sicilia la nuvolosità sarà maggiore Al prossimo episodio